11. Se è inferiore. Che cosa significa divenire? Commento. Divenire significa acquisire qualcosa che ancora non si possiede. Ma in realtà noi già possediamo gli stati di coscienza che vorremmo vivere. Il difficile è che solo una parte del nostro vero essere funziona nella condizione umana. Questa incapacità è il nostro sé inferiore. Infatti noi siamo incarnati per far emergere la perfezione di ciò che già siamo nella nostra essenza. Grazie a tutti.